ciao ragazzi siamo in questo furionda del mind combat no, mind combat un cazzo sono abituato a dire furionda del mind combat del survivor maschile sono in compagnia di Jammin il partecipante che è mancato al primo episodio questo episodio uscirà prima del secondo quindi perchè ancora non l'abbiamo registrato in questo momento noi stiamo cercando di trollare Alex io gli devo mettere l'acqua in casa ok? si infatti sto cercando di far tirare d'altro punto si ok si 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 ok dove sta guardando? dove sta guardando? allora sta salendo qui sta guardando ho cazzo uscito? secondo me è uscito dalla casa si sta fatto già la casa pure se saprà che dovrà abbandonarla no io rompo un blocco no? perchè mi sono a riuscire sa guarda dovercela senso perchè sta scavando quindi non ti conto a male e non mi sto fare questo questo è la casa all'ice della lava sud sta colpito ok 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 ma sei già arrivata la casa sono nell'angolino della casa ahahah ahahah mi trovo il problema è meglio di no ok sto salendo sto salendo sto salendo cerco di essere nascosta ok siamo vicini ad alex gli voglio mettere l'acqua in casa ahahah tipo di roma che cazzo sto facendo ho fatto un complotto oddio mi sto avvicinando troppo alla finestra dimmi che non esce d'accordo ah tu quali finestra stai? la finestra la finestra la finestra dove stanno le mucche e le becore? dove stai il villaggio ah ok no però adesso all'angolino non riesci a fare altrimenti se ne accorgi e ti seguo eh quello della fai eh non farti dire dalla finestra che li sto guardando là che vieni dove mi sto spostando tipo no 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 cazzo no oddio shit no te come dobbiamo fare? mi dovete pure a dormire dove sta guardando? ahahah eh stiamo facendo una porta secondo me sta starà scrivendo oppure sarà guardando qualche altra cosa perchè non si muove secondo me sono accorto ahahah non lo so continuiamo a parlare poi che si sente la musica di sottofondo che c'è da una festa ehm ah no 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 ah no 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 ho fatto una laggata dove sta andando dove sta non mi direi che va vicino a un porto ahahah non me lo dire non me lo dire non me lo dire oddio ci sta in un casino di mob c'è un enderman del cazzo spero che non lo guardo ah no vede l'enderman oddio c'è ciao alex qui vicino dove sta guardando? eh sta guardando esattamente dove c'è la finestra dove stai tu la porta la sta guardando eh la porta eh vabbè comunque si vede comunque la visuale eh ora ora sta guardandomi ma è troppo bella che quella faccia se vuoi andare che che tu vuoi rubare vedi che vuoi rubare vedi che vuoi rubare vabbè vabbè oh sta salendo sta salendo in tetto sta salendo in tetto sta salendo in tetto oddio sta salendo in tetto no oddio aspetta c'è lo zombie no sta dirigendo alla finestra no no devo uccidere lo zombie che ti metti mi a te sshh che non si sente che lo sto uccidendo sshh che non mi vede sshh che non mi vede no ti ho visto merda ti ho visto Nenna ma baffanculo se non vede la porta no me l'ho bloccato ok 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 via immissione immissione fallita ecco cosa facciamo non andiamo a nerdare come fa alex ma noi andiamo a cazzeggiare ehm si ho visto missione sconfuta si griffate non è adesso no ci metteremo la lava non l'acqua non l'acqua si chiama griffare mettere un po' d'acqua non è griffare c'è stavamo facendo uno scherzo aiuto oddio proteggiate che c'è il villaggio è vero? si abbiamo trovato un villaggio forse era non era non dovevamo spoilerarlo però si vabbè è una delle strutture di cui abbiamo fatto gli obiettivi è che è trovare tutte le strutture questa l'abbiamo già trovata una quindi quindi vi aspettiamo nel prossimo episodio spero non in un fuori onda perché ci saranno meno di schede qui finalmente entrerlo anche nella serie si mi stanno orando spero che la smettano da roma oh aiuto oh dai sto anche la grande aiuto mi stanno uccidendo eh anch'io stanno troppi bob cos'è no aiuto se vieni di frecce aiuto sono morto sono morto sono morto sto per morire posso ancora leggere la casa di coso dai finiamo questa missione è questione di vita di morte sto muovere sto muovere sto muovere sto muovere ero morto no non c'è io lo volevo mettere tu ma sono morto in un modo bellissimo ok ma sei a casa di Alex aspetta che io vengo a distrarre allora ci ho messo l'acqua sopra le scale shi ma sorry Alex ma dovevamo fare qualcosa cioè io ti volevo mettere un secchio di acqua in testa solo che mi sono finita eh lo sai che ti li feci? ahia ahia sono morto sei un porcospino cosa ci hai fatto a quel povero endermi? dimmelo niente ok ragazzi sono tornato a casa finalmente e niente noi ci vediamo in un prossimo fuori onda e nel prossimo episodio yep ciao ciao